Grazie Ricordate, questa non è una semplice giostra Ricordate, questo è il Transidence L'abbiamo riportato qui, direttamente dalla Calabria, gente A ballare Sulle mani Abbattito Tempo, 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 tempo Con le mani, con le mani Con le mani, con le mani Mamma mia Ragazzi con le mani non le sento, non le sento lì sopra Più forte E allora siete tutti pronti? Ragazzi, ho detto siete tutti pronti? No Non vi sento Appoggiamo la testa Iniziamo così Oltre il limite Va in creci Ehi ma questa volta la terza, fammi sentire l'urlo Perfetto Perfetto ragazzi Lo rifacciamo tutti insieme, dai Diamo inizio così al contro alla rovescia 3, 2, 1 Contatto pubblico Io vi faccio ballare L'urlo Ok, puoi mostrare Ok, puoi mostrare Stop, gente Ragazzi Ragazzi, riuscite sempre da questa parte, dai Grazie Grazie.